Benvenuti a tutti in questo nuovo video teoria dei massimi esperti. Come sempre, anche oggi porteremo solo la verità. Molto importante, negli ultimi due capitoli, ma con più precisione nel 1918, ci sono pervenute delle informazioni molto importanti durante lo scontro tra Wuzwu e Jimbe. Innanzitutto veniamo a sapere che il frutto Gam Gam di Rufi venne rubato dalla ciurma di Shanks di Rosso in modo diretto. L'Aki Lu fu colui che lo prese, come sappiamo bene, di persona, vero e proprio. Quindi non vi fu nessun intermezzo, non ci fu nessun ladro che attaccò la nave governativa che veniva ascoltata da Wuzwu e poi Shanks successivamente ha attaccato loro, bensì Shanks attaccà direttamente la nave governativa ascoltata appunto da Wuzwu e la CP9. Questo l'avevamo già detto noi, però c'erano alcuni sostenitori che pensavano che potesse esserci una via di mezzo, ma Oda sappiamo bene che di solito fa le cose molto lineari. Oltre ciò però c'è arrivata un'altra informazione ancora più importante, e lì casca l'asino. Andiamo ad analizzare. Infatti Wuzwu in prigione venne a sapere della leggenda di un certo Nika, San Go, il dio sole, il dio del sole, che era un guerriero capace di liberare gli schiavi e di farli sorridere. Adesso quindi andiamo ad analizzare il nome Nika nella leggenda e poi successivamente analizziamo anche tutti i richiami e i collegamenti presenti all'interno del manga stesso. Oltre al nome Nika vediamo alcuni riferimenti storici, mitologici e religiosi, sulle divinità solari. Vi è il dio del sole della mitologia greca Helio, che tramite il suo carro solare, trainato da quattro cavalli, permetteva al sole di sorgere. Un culto simile venne attribuito nella mitologia greco-romana anche ad Apollo e ad altre divinità. Difatti in epoca romana venne coinato l'appellativo Sol Invictus per le varie divinità solari, ad esempio Mitra, che rappresentava un culto importato. Anche tra le divinità dell'antico Egitto vi era un dio del sole, Ra. Oppure ancora, nei vari culti delle civiltà precolombiane, come gli Aztechi, gli Inca, i Maya, era presente la figura del dio sole. Anche in varie religioni, come in quella ebraica e quella cristiana, vi è un legame tra il sole che sorge e l'arrivo del cosiddetto predestinato, in quel caso è il Messia. Un ulteriore parallelismo lo possiamo trovare in molte dottrine orientali e non solo, come il dualismo tra lo Yin e lo Yang, la luce e l'oscurità, il giorno e la notte, la luna e il sole. Ad esempio per la luna e il sole vi è la contrapposizione tra Sasuke e Naruto, tra i tanti, no? Per rimanere in ambito di manga e anime. Tutte queste elencate sono delle simbologie di riferimento, ovviamente al sole. Andiamo adesso a vedere tutti gli indizi disseminati qua e là all'interno del manga e quindi della narrazione di Oda. Iniziamo nell'isola nel cielo. Lì vi furono vari richiami a San God. Uno fu nel capitolo 287, mi riferisco a una vignetta presente all'interno del flashback di Calgara dove appunto venne menzionato San God, God San, come preferite. Un'altra tavola molto importante presente nel capitolo 253. Fu menzionata da Oda come la sua preferita del manga. Lì vediamo Rufi rappresentato insieme agli altri che festeggiano e vi sono varie sagome che sembrano uguali appunto a quella di Wuswu che ha detto, che ha raccontato, che ci ha mostrato per quanto riguarda San God. Se fate caso c'è Usopp che gli somiglia rufi è proprio identico. Cosa faceva Rufi in quel frangente? Festeggiava insieme agli altri. Tutti quanti intorno al fuoco. Sorrideva Rufi ed insieme a lui sorridevano anche gli altri. Tutti coloro che erano stati liberati finalmente da quel conflitto che andava avanti ormai da troppo tempo. Ci fu una menzione anche nel capitolo 297. Infatti gli abitanti pregavano sempre il God San. Vi è un collegamento con Wano? A Wano c'è qualcosa di simile. Infatti c'è il richiamo alla luna che è palese, no? Partendo da quello che è il simbolo dei Seguaci dei Kozuki, la mezzaluna sulla caviglia, passando per la trasformazione dei Mink in forma Sulong, grazie alla luna piena, fino alla profezia di Lady Toki. Vi ricordo inoltre che lei rappresenta anche la leggenda della principessa splendente, no? Ma qual era la profezia? Il fatto che venne citata la luna che non conosceva l'alba e che l'avrebbe conosciuta dopo 20 anni, con l'apertura del Wano Kuni, quella luce di un'alba così intensa, proprio a sancire che dopo il buio della notte più profonda solgerà l'alba più luccicante. Una nuova era portata da Rufy. Naturalmente gli uomini di pesce, i pirati del sole, Fisher Tiger. Nel capitolo 623, prima della sua morte, raccontò a tutti che era stato uno schiavo dei draghi celesti. Sappiamo bene che lui scappò da ciò, da questa schiavitù e creò la ciurma dei pirati del sole e modificò il marchio della schiavitù, dello schiavismo con il tatuaggio appunto che indicava il sole. Quindi sicuramente Tiger poteva essersi ispirato alla leggenda di Nika. Ricordiamoci che tra i vari salvò Koala, che oggi fa parte della madre rivoluzionaria, e anche Boengok e le sorelle. Piccola menzione aveva fatta anche a madre Carmel. Infatti lei chiamò il suo Omis, se vi ricordate, Pandora, che lo creò da un incendio e lo definì il God Sun che aveva risolto i problemi. Naturalmente c'è anche Joy Boy, ci mancherebbe altro. Molti si sono chiesti e ci hanno chiesto se Nika potesse essere il vero nome di Joy Boy. Questa è un'opzione importante e che non va assolutamente sottovalutata, come anche un'altra opzione secondo la quale Nika sarebbe addirittura un personaggio precedente a Joy Boy stesso. Questa anche è incredibile come situazione. Adesso una piccola relazione nostra. Sole, luna ed oscurità. Importante, come abbiamo già detto precedentemente, di questo Yin e Yang di cui si parlava. Lufi naturalmente rappresenta il sorriso, colui che è libero ai popoli, colui che vuole essere l'uomo più libero del mondo, colui che si fa carico del peso della storia. Metaforicamente potremmo definirlo il sole degli altri. Quindi bisogna capire cosa rappresenta la luna, chi rappresenta l'ombra e l'oscurità, che vogliono spegnere la luce appunto del sole. Naturalmente all'interno del manga, con gli elementi a nostra disposizione, l'illazione cade su. Marshall di Teach e Yumsama. Questi due personaggi che sono contrapposti appunto a San God Rufi. Capiamo bene quindi che si parla di volontà ereditata, no? Tutti questi riferimenti che abbiamo fatto sono molto importanti. Si ritrovano facendo la giusta rilettura del manga. Non bisogna sfogliare, bisogna leggere. E Oda è un maestro dei retcon. Lo dimostra in ogni capitolo sempre di più. Capiamo bene che stiamo andando oltre, oltre il re dei pirati, oltre il re del mondo. Forse anche oltre Joy Boy, che potrebbe essere sia il vero nome di Nika che un personaggio a parte. E stiamo capendo che c'è qualcosa di mistico, qualcosa che trascende lo spazio e il tempo. Perché alla fine del manga sicuramente God San sarà Rufi. Vi ricordo di scrivere hashtag Rufi God San. Comunque questo legame ancestrale che c'è tra Rufi, Nika, Joy Boy, è la continuazione di un rapporto antico che può includere tutto. Anche qualcosa che vada oltre l'essenza stessa della materia, no? Quindi di cosa stiamo parlando? Di qualcosa di immateriale, della volontà ereditata. Chi, meglio di Rufi, porta avanti tale gesta? Anche oggi abbiamo portato solo la verità, la luce. Noi siamo i God San della community. Incredibili, magici. Ora dici voi cosa ne pensate qui nei commenti? lasciate un commento importante, anche da sfogliatori, non c'è problema, accettiamo tutto. Lasciate anche, lasciate anche quello che ho detto prima. Iscrivetevi a tutti i nostri social, mi raccomando, già li conoscete, li trovate in descrizione. Alla prossima volta, alla prossima verità!